Musica Nome Giulia Arianna Cognome Del Fabro Romanelli Età 27 Ancora per poco 25 Ruolo Centrocampista 6 per 7 42 42 Il capoluogo di regione del Molise Campobasso Torino La più rompipalle Il mio braccio sinistro Romanelli La mia amica Giulia L'aggettivo per descrivere il calcio femminile Sorprendente Dimenticato Il momento migliore da ricordare mai passato con il Bearzi L'inizio della Serie B L'anno scorso La salvezza Lo scorso anno E la vittoria contro Lo Iesi Quest'anno Ti hanno mai detto che sei più portata per la danza? Non credo proprio Mai Il mio nonno ci ha sperato La domanda più strana Fatta sul calcio femminile mai ricevuta? Se le partite sono più corte Se le partite durano 90 minuti Pepsi o Coca-Cola? Coca tutta la vita Coca-Cola Torino Cos'è la fibrosi cistica? È una malattia genetica di ereditaria Credo È una malattia genetica che colpisce molto i polmoni Doni il sangue? No Sì Sei a favore dei matrimoni gay? Sei una persona libera Sì mi sembra No Ma nel senso che Mi sembra Mi sembra un Sì a me non cambia niente Aspetta devo dire una cosa Sì mi sembra Sì Sì certo Olio Benji O Miele Shiro Olio Benji Olio Benji Che cazzo ho fatto ste domande? Fai una boccaccia No aspetta un'altra A me ne croce gli occhi Cantaci una canzone Totalmente dipendente Non so stare senza te Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Che hanno il coraggio Il coraggio di essere umani Toccati il naso con la punta della lingua È più corto adesso Aspetta No Rifaccio la boccaccia Allora Fai un urlo Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah